Alinca Festival quest'anno è giunto alla quinta edizione, siamo felici come ogni anno, è nata questa iniziativa culturale, artistico-culturale, è nata per l'esigenza di mettere in rete i comuni anche su un ragionamento della programmazione degli eventi culturali e per la promozione della cultura. Questa iniziativa è nata cinque anni fa su una mia idea condivisa ovviamente dall'amministrazione provinciale, un'idea che appunto è servita a destagionalizzare innanzitutto gli eventi culturali che vedevano una fortissima concentrazione nel mese di agosto. Noi abbiamo valutato bene l'opportunità che nel mese di dicembre e anche novembre la nostra area, tutta la provincia, la città metropolitana ma soprattutto la zona omogenea dell'area grecanica e diciamo nel periodo di dicembre ormai stagionalmente abbiamo registrato che è da 15-20 giorni di bellissimo tempo, quindi ci consente di lavorare all'interno e anche all'esterno. Questo è un festival che si snoda, non faccio riferimento a date precise, ma si snoda da eventi artistico-culturali musicali che affrontano anche dal punto di vista dello studio ciò che è stata la nostra cultura e ciò che è ancora la nostra cultura. Lo affronta anche dal punto di vista delle visite guidate e quindi con la scoperta diretta dei luoghi, lo affronta certamente come questo accade in tantissime manifestazioni culturali dal punto di vista musicale e del suono. Però in un modo diciamo anche ricercato, studiato e utilizzando la sinergia dei comuni e delle associazioni che da subito hanno aderito al partenariato di progetto. Io per questo mi sento di ringraziare l'associazione Il Borgo Onlus che è l'associazione capofila al cui interno ha voluto diciamo coinvolgere un grandissimo partenariato di progetto, almeno un'associazione per ogni comune dell'area grecanica, motivo per cui il territorio non è certamente escluso ma è protagonista. Ciò consente chiaramente di non sovrapporre le date e di spendere dalla prima all'ultima manifestazione in modo efficace questa iniziativa che ormai ha anche un valore nostro come marcatore d'aria, insomma così come lo fa nel periodo estivo il Palearizza, l'Alica Festival che non è un doppione certamente ma che appunto ripeto destagionalizza questo tipo di eventi e lo fa nel periodo di novembre-dicembre. Per cui ringraziando il Borgo Onlus non posso che ringraziare anche per la sua costante e incessante attività il direttore artistico dal Borgo nominato ormai da tre anni, che è Silvio Cacciatore che mettendoci anima e cuore ovviamente ci sta dando grandissimi risultati e invito in ultimo alle amministrazioni comunali che hanno dato sin qui una grandissima sinergia e disponibilità a non, diciamo, anche se ci sono stati errori o sbavature dovute al difetto di comunicazione che si può creare quando i numeri diventano grandi e diciamo a voler sempre collaborare al fine di migliorare queste eventuali difficoltà di comunicazione che non ci sono state in modo sensibile e che quindi devono addirittura, diciamo, costituire elemento e stimolo per eventuali possibili, laddove fosse possibile miglioramento per le edizioni future. Grazie. Alica Festival giunge alla quinta edizione, una quinta edizione molto particolare perché il tema quest'anno è sulla nostra strada, con un hashtag si rivolge ad una comunicazione più giovane e quindi un pubblico sempre più ampio, pubblico dell'area grecanica perché il festival è all'interno dell'area grecanica e si rivolge appunto a tutti quanti per valorizzarlo e per trasmettere in maniera sempre più ampia ed elevata le nostre tradizioni, quindi la strada da cui proveniamo, verso il futuro e quindi come ci proiettiamo da qui in avanti. Ci sono numerosi concerti, numerosi eventi culturali, workshop, seminari, visite guidate, sono più di 20 eventi, sono circa una quindicina le località interessate in più di 10 comuni dell'area grecanica, insomma si parte domani da Staiti alle 10 e mezza, dal borgo di Staiti con gli giamberiani, ci sono tantissimi altri artisti, si concluderà poi il 31 dicembre con il concerto di Capodanno e quindi che dire, vi aspettiamo ad Alica Festival nell'area grecanica.